Enorme corpo, metti di qua, diamante dell'arte, piano piano, che mi fa piacere che succede sempre, diciamo, che il fonico a un certo punto non nasconde più la sua omosessualità, è qui. Mi fa piacere che si è fatta la conna con la cartrufe del rocce, che mi sembra una cosa... Ci sono molte persone della mia famiglia che a tuagli Natale dalla tavola avevano i giorni di Pasqua. Andiamo avanti, 49 anni, è calabrese, però vive a Calvi, questo meraviglioso paese in provincia di Benevento, che conoscono tutti, perché ci sono tanti monumenti, tante poste, tanti vinti, anche Enzo Campagnoli a Calvi una volta fece un miracolo. E quindi è andato là con l'imposizione che era... Sì, ecco perché mi ricordavo, se aveva visto una statua, cioè prima... No, fece un miracolo là, che era uno muto e lo fece cantare con la voce di Malgioglio. È caparbia, è empatica e tosta, nel senso... Preferivo il finale, poi non si è cancellato, è coraggiosa, perché... È coraggiosa... E allora sei caparbia, empatica e coraggiosa, no, questo non si può dire perché la giuria sono persone di chiesa, che cosa ci canti? Volevo scriverti da tanti. E lo so, però te la giuritti che posto non vanno a bolla. E che ci posso fare? Io insisto! Tu scrivimi sempre, non ti preoccupare, le lettere sicuramente arriveranno. Diamante Denardi, 49 anni! Grazie! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Volevo scriverti, ma non faccio adesso. Volevo scriverti da tanto, sui last days, ma non ho fatto mai. Grazie a tutti. Io credo che il messaggio sia arrivato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Ciao, buona serata. Grazie Diamante, fate ancora un grande applauso, non mi fermate. Grazie a tutti. Grazie a tutti.